Se hai una passione per nuove tecnologie e vuoi accorciare i tempi di inserimento lavorativo, a Fano c'è un corso di alta specializzazione che potrebbe fare per te. Si tratta di robotica e innovazione digitale, efficienza dei sistemi produttivi in ambito industria 4.0. E noi oggi di Fano TV siamo venuti in Ancona proprio per farvi conoscere tutti i dettagli di questa grande opportunità. Luca, lei è stato uno dei protagonisti di questo Open Day, però la giornata si è divisa in diverse fasi proprio per dare presenti una visione completa a 360 gradi. Sì, abbiamo provato a dare alcune chiavi di lettura della nostra esperienza nel mondo dell'industria 4.0. Abbiamo dimostrato quale opportunità ci possono essere approcciando alla digital transformation, perché il mercato sta cambiando e sta diventando sempre più attento alle personalizzazioni. E quanto la produttività può essere un elemento fondamentale all'interno delle aziende manufatturiere utilizzando proprio il mondo 4.0. Inoltre abbiamo anche rappresentato quanto è strategico in questi processi di cambiamento dare visione dell'apporto che le risorse umane riescono a dare all'interno di questi progetti e quanto le aziende devono essere attenti a gestire al meglio, proprio perché in questo cambiamento le competenze, le attitudini sono molto molto importanti. All'interno di questa giornata abbiamo poi fatto vedere come l'attività laboratoriale è molto importante per portare queste risorse a lavorare con le tecnologie abilitanti dentro le fabbriche. Quindi non solo una parte teorica, ma possono vedere anche con mano come funziona esattamente, anche perché si parla di una tecnologia che avanza di giorno in giorno e ovviamente le aziende per essere competitive devono essere a passo con i tempi. Sì, per noi questo è importante. Calcoli che ogni nostro cliente produttivo ha una learning factory all'interno, simile al laboratorio che oggi i ragazzi hanno visto in funzione, perché è importante che le persone possano provare le tecniche in tutta sicurezza per poi poterle applicare in ambito produttivo durante la giornata. Sabrina, lei è la responsabile Education Istau e infatti qua vicino, sempre ad Ancona, c'è una scuola di formazione manageriale. Di che cosa si tratta e come è possibile eventualmente allacciare rapporti con questo luogo e quindi delle collaborazioni formative? Allora, sì, Istau è stata fondata più di 50 anni fa da professor Giorgio Fua ad Ancona. La nostra missione è formare figure manageriali per le imprese del territorio e non solo. Si ispira ai valori di Adriano Olivetti, quindi abbiamo una forte connotazione valoriale, moduli di etica e leadership all'interno dei nostri master, ma non ultimo anche e soprattutto la parte di innovazione fortemente sentita. Adriano Olivetti era un grande innovatore e quindi anche, tornando al tema di oggi, un po' 4.0 e questi temi sono molto sviluppati. Avendo una rete di imprese che collaborano attivamente con noi, siamo in ascolto anche delle loro esigenze e ci stanno ponendo e sottoponendo molte richieste su questo tema. Quindi una sorta di collaborazione un giorno potrebbe nascere? Assolutamente sì, noi siamo aperti soprattutto a questo tipo di collaborazione dove c'è un avanzamento, ci sono dei player sulla frontiera della ricerca e della formazione. Ovviamente per noi è sinergico riuscire a lavorare assieme. Lavorare nel settore delle nuove tecnologie oggi è possibile grazie all'ITS Lab Academy. Innanzitutto che cos'è un ITS? L'ITS è un istituto tecnico superiore, è una scuola permanente che sta sul territorio e fa una formazione post diploma. È assimilabile a un corso universitario, solamente che a differenza da un corso ad esempio di una laurea triennale che tutti conosciamo bene, che è un percorso di tre anni e che in Europa, nel quadro europeo delle qualifiche, è un livello 6, l'istituto tecnico superiore invece è un livello 5. Giusto per concludere, il cerchio, un diploma di scuola media superiore, quello che di nuovo conosciamo tutti, è un livello 4, quindi si posiziona esattamente in mezzo. A Fano c'è una grande opportunità per chi ama le nuove tecnologie. Oggi anche qui ad Ancona si parla di questo 4.0, intanto perché sono importanti e di che corso si tratta. Benissimo, sì, noi siamo convinti che sia una cosa molto importante, però non lo siamo solo noi, ma tutti i media ne parlano, perché effettivamente l'industria manifatturiera in Italia è dominante. E sappiamo tutti che c'è una forte esigenza di migliorare la qualità della produzione, abbattere i costi di produzione e migliorare anche le tecnologie. Inoltre i recenti governi hanno fatto notevoli finanziamenti proprio per portare all'interno delle aziende tutte queste tecnologie dell'industria 4.0. Sicuramente avremmo sentito parlare tutti di iperammortamento. Che cosa manca? Mancano le persone che siano in grado di far funzionare queste tecnologie. Siamo ad Ancona perché ci troviamo nella sede di Confindustria, in quanto il laboratorio che noi abbiamo a Fano è unico in tutta Italia. Abbiamo solamente un qualcosa di simile all'interno del Politecnico di Milano. Questo laboratorio contiene al suo interno tutte le tecnologie di una fabbrica 4.0. Veramente si chiamano competenze abilitanti e tecnologie abilitanti. E qui ad Ancona tutti gli industriali ci hanno chiesto di poterle visionare, di poter proprio toccare con mano come funziona questo laboratorio. Anche perché all'interno di queste imprese c'è una fortissima esigenza, un forte bisogno di avere persone che sappiano usare questi sistemi, queste tecnologie, avete visto, robotiche o della digitale più avanzato. In che zona di Fano si trova esattamente? Allora, questo polo, lo chiamiamo polo formativo, si insiede all'interno del Codma. Quindi lo conosciamo tutti, il mercato ortofrutticolo del Medio Adriatico si trova immediatamente a ridosso dell'autostrada in zona Rosciano. E addirittura la sede va a recuperare gli ambienti che erano una volta dell'Università di Urbino. Quindi andiamo a recuperare uno spazio e a portare dentro un polo formativo che noi, diciamo, ambiziosamente speriamo che serva anche per tutto il rilancio del sistema imprenditoriale fanese e della provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di un corso a pagamento? Il corso è completamente gratuito, è finanziato in parte dal Ministero, in parte dalla Regione Marche. Quindi praticamente sin dall'iscrizione non ci sono tasse, questa è anche una scelta proprio nostra, della nostra fondazione, non si pagano tasse e tutti i costi sono sostenuti, come dicevo, dal pubblico. E diciamo, il periodo, come diceva lei, è di due anni e al termine di questo percorso si consegue un titolo che ha un valore europeo. Anzi, siccome è di nuova emanazione, esistono da nove anni gli ITS che sono ancora un po' poco conosciuti, sono già stati concepiti per essere riconosciuti in ogni paese dell'Unione. Questa è una cosa fondamentale. Ecco, quante ore sono complessivamente? Anche perché alcune di queste si svolgono in azienda ed altre in laboratorio? Esatto. La formazione, rispetto a quella universitaria, anche triennale, che ho citato prima, è estremamente pratica e le ore che si svolgono in azienda sono tantissime. Considerate che un corso dura 1800 ore, che sono spalmate nei due anni. Quindi si assomiglia un pochino a un periodo di due anni scolastici, quelli della scuola superiore. Però all'interno di queste 1800 ore dobbiamo considerare che ben 790 ore sono di stage aziendale. Noi abbiamo già rapporti con tutte le imprese del territorio, anzi, ci tengo a precisare che lo stesso corso è stato definito da dei progettisti, dagli ingegneri e anche dei professori universitari, ma in realtà l'ultima parola l'hanno avuta le imprese del territorio. Cioè è stato modellato proprio sulle esigenze che hanno le imprese principali del nostro territorio, che fanno manifattura, manifattura avanzata, quindi meccanica di precisione, alta tecnologia, informatica e anche tutte le aziende, ad esempio del settore petrolchimico, che fanno automazione industriale e sappiamo che fanno, è stato per tantissimi anni ed è ancora un polo fondamentale nel panorama dell'industria mondiale. Nello specifico quali sono le materie che vengono insegnate? Allora, le materie che vengono insegnate sono, come dicevo prima, quelle abilitanti dell'industria 4.0, ovvero, per entrare proprio nello specifico, si parte da tecnologie che sono tipicamente informatiche, quindi anche tutta la parte di sicurezza informatica, le reti, la programmazione, fino addirittura alle tecnologie un pochino più innovative che stanno approcciando in questo momento, nel nostro territorio, che sono legate all'Internet of Things oppure ai Big Data e soprattutto, come si è detto molto spesso oggi all'interno di questo convegno, della cyber security che sta diventando un problema veramente fondamentale per le imprese nazionali e mondiali. Poi si passa a tutta la parte di automazione industriale, quindi c'è la programmazione di sistemi automatici, i robot oppure i più recenti cobot, che sono i robot collaborativi, fino ad arrivare anche sistemi a guida autonoma. Qui, ad esempio, avrete modo di filmare il funzionamento di una GV, ma noi siamo anche esperti in tecnologie, ad esempio, legate ai droni, al sistema dei droni, anche perché fanno anche in questo settore a un piccolo primato. Noi abbiamo dei progettisti ed esperti di droni che sono di fama internazionale e li vogliamo mettere a disposizione di questo corso. Possiamo dare in conclusione una percentuale ai nostri telespettatori di quanti studenti riescono a trovare lavoro una volta conseguito questo titolo? Allora, noi ci possiamo basare su diverse statistiche che sono tutte molto confortanti e forse anche per questo gli ITS dovrebbero essere conosciuti di più. Considerate che a livello nazionale la percentuale è superiore all'80% all'interno dei 12 mesi dal diploma. In realtà nel settore nostro le percentuali sono ancora più spinte, si parla di 85-87%. Quello che conta è avere proprio voglia di mettersi in gioco. Una cosa che prima, lei mi ha fatto una domanda, ma mi è sfuggita. Cioè, noi all'interno di questo percorso facciamo 800 ore di laboratori, chiedo scusa, di stage, ma abbiamo 400 ore di applicazioni pratiche in laboratori. E anche la didattica è completamente diversa, sia da quella scolastica che da quella universitaria. È una didattica dinamica, invertita, dove lo studente intanto non sta più in lezione frontale e soprattutto interagisce costantemente con il docente. Questo significa che se ci sono dei talenti, se ci sono delle persone che hanno passione per queste tecnologie, sono veramente tante, hanno tutta la possibilità di esprimersi. Anche perché poi nella parte laboratoriale si realizzano dei prototipi, abbiamo addirittura un fab lab dentro la struttura, che permette proprio di volta in volta non solo di studiare una cosa, ma anche di realizzarla, di farla interagire e magari di portarla in azienda e di venderla. Entro quando è necessario iscriversi? Allora, la data di iscrizione è abbastanza vicina. È il 21 ottobre, quindi quando si deve, io sono un genitore, ho una figlia di 18 anni, immagino che una famiglia quando deve scegliere per un proprio figlio o anche un ragazzo, chiaramente in piena autonomia, deve decidere per i prossimi due anni, ha bisogno di ponderare, ha bisogno di capire, di vedere. Noi siamo a disposizione per dare tutte le informazioni e fare anche comprendere bene quali sono tutti gli aspetti di questo corso. Comunque, ecco, teniamo conto che la scadenza è improrogabile del 21 ottobre e ci sono a disposizione dai 25 ai 30 posti, nel senso che il corso prevede 25 iscritti, ma possiamo arrivare ad accettare 30 candidature. Ingegnere, quanto funziona e quanto è importante in mondo d'oggi la tecnologia? La tecnologia ovviamente è molto importante ed è pervasiva. Quello che bisogna fare attenzione è non renderla, non renderci schiavi della tecnologia. La tecnologia è uno strumento, costa anche relativamente poco, entra nelle nostre tasche, entra nei nostri PC. Quello che bisogna sforzarci di fare, specialmente quando siamo un'organizzazione produttiva, non dei privati, è utilizzare i nostri scopi e non il viceversa. Quindi oltre alla quotidianità, sicuramente anche nel mondo delle imprese, il giorno d'oggi è diventata fondamentale. Sì, si è verificata una trasformazione che è in accelerazione, per il quale quello che prima si poteva fare a basso costo, inquinando, eccetera, in Asia o in paesi extra europei, per cui c'è stato un fenomeno di esportazione della produzione, ora hanno cominciato a utilizzare loro la tecnologia. E quindi, se vogliamo raggiungere una vera competitività, cioè una competitività temporanea, dobbiamo andare più veloci in termini di tecnologia, ma soprattutto dell'utilizzo opportuno della tecnologia. E ci siamo spostati nel laboratorio perché siamo assolutamente curiosi di capire come funzionano questi strumenti. E con questo blocco, intanto, che cosa rappresenta? Allora, qui ad Ancona abbiamo portato, diciamo, il cuore del nostro laboratorio. In realtà a Fano avremo ancora più attrezzature. Quello che vediamo è un blocco che rappresenta la vera e propria fabbrica. Ogni singolo modulo rappresenta un processo produttivo. È molto piccolo perché si simula l'assemblaggio di un telefono cellulare. Ovviamente, se avessimo dovuto simulare l'assemblaggio di un'automobile, avremmo avuto bisogno di tantissimo spazio. Tuttavia, qui ci sono tutte le tecnologie, una per una, che vengono utilizzate dall'industria 4.0 proprio perché il laboratorio ha uno scopo didattico, ma è esattamente una riproduzione di una fabbrica vera. Quindi ci sono, ad esempio, i PLC, che sono i microcomputer che governano ogni singola parte della produzione. Ci sono degli attuatori. Qui, chiaramente, il telefono cellulare viene proprio veramente assemblato. Quindi sono i componenti che vengono inseriti a seconda dell'ordine che ha fatto il cliente online. Quindi immaginate che dal momento in cui noi clicchiamo sul sito internet e compriamo un telefono, parte la produzione. Ovviamente questo succede su grandissima scala e incominciano a girare questi nastri trasportatori che trasportano l'oggetto che deve subire tutta una serie di procedimenti. Dopodiché abbiamo un dispositivo che vediamo un pochino più in là che è una cosa molto simpatica perché si assomiglia in tutto e per tutto a quelle automobili che noi adesso stiamo vedendo in televisione a guida autonoma. Possiamo avanzare così lo indichiamo, lo facciamo vedere anche a casa che è la parte davanti. Questo è un AGV, è un dispositivo che veramente è un po' come un'automobile a guida autonoma che si preoccupa di prelevare i telefoni che hanno completato il ciclo di produzione e di portarli nella parte logistica, ovvero dove noi sappiamo, ad esempio nei magazzini delle fabbriche, dove arriva la merce che deve essere assemblata e riparte il prodotto finito, impacchettato, con le etichette, pronto per essere consegnato a casa. Quindi immaginiamo tutto quello che succede dal momento in cui noi clicchiamo sul tasto che abbiamo ordinato una cosa online e arriva a casa il corriere con il pacchetto. Il tutto viene gestito qui dentro con le stesse identiche procedure che avvengono in una fabbrica reale e i ragazzi hanno possibilità di prendere ogni singola componente, parliamo di tecnologie di rete, pneumatiche, fibre ottiche, RFID, veramente quello che oggi c'è di meglio nella tecnologia, ad esempio la realtà aumentata, potremmo ad esempio qui arrivare con un tablet e puntare uno di questi oggetti e all'interno di questo tablet addirittura escono fuori tutte le indicazioni su quell'oggetto, chi l'ha ordinato, che colore lo vuole, quando sarà consegnato e tutti i processi di produzione che noi immaginiamo oppure sappiamo che vengono attuati. Il dispositivo, dicevo, a guida autonoma parte da questo punto della produzione e va in un'altra parte molto interessante che è quella legata alla logistica dove ci sono ad esempio delle tecnologie che lo stesso sono assolutamente interessanti che sono quelle legate alla robotica, ne abbiamo uno qua, ne abbiamo un altro affano ancora più interessante ma non potevamo portare tutto e all'interno di questa cella c'è un robot antropomorfo che fa proprio lo spostamento e lo smistamento della merce, quindi la merce che è arrivata viene portata in produzione e la merce che invece ha avuto tutto il processo e quindi è pronta per essere spedita viene inserita in un binario, in un canale in uscita che va verso le nostre case. Qui abbiamo un'idea completa del processo produttivo qua vi volevo far notare invece sullo sfondo che ci sono due server che è dalla parte informatica che fa il monitoraggio e il controllo e il comando di tutta la produzione anche in questo caso ci sono delle applicazioni, dei programmi, dei software che devono essere studiati chiaramente, che permettono di gestire tutta la parte di produzione e di logistica ma cosa molto interessante nel monitor di destra c'è un server SCADA che permette invece di fare il monitoraggio energetico quindi riusciamo a capire se la nostra fabbrica sta consumando troppa energia oppure un monitoraggio che ci permette di capire se qualcosa si sta rompendo perché una supervisione addirittura si chiama monitoraggio predittivo cioè oggi sempre di più si cerca di capire se una cosa si romperà in maniera che possiamo intervenire prima che questo accada un po' stanno cercando di farlo anche le case automobilistiche ci dicono vai in autofficina perché stanno finendo le pasticche dei freni oppure si sta rompendo però sono diciamo sulle auto un po' più costose e sofisticate nelle fabbriche questa cosa è fondamentale perché se si ferma la produzione sono guai per tutti e qui si studiano proprio i sistemi che permettono di fare questo monitoraggio a tutti i livelli e siamo in chiusura di questo nostro speciale Stefano ricordiamo entro quando devono iscriversi gli interessati la scadenza dell'iscrizione è prevista per il 21 ottobre e i corsi poi si svolgeranno dove? si svolgeranno presso il Codma di Fano e dove invece è possibile avere maggiori informazioni e dove bisogna iscriversi? potete rivolgervi a noi che ci troviamo in via terza strada 5A a Bellocchi sopra il supermercato Cisa e quindi mi raccomando è davvero un'opportunità imperdibile come avete sentito anche dalle testimonianze da tutto quello che vi abbiamo raccontato in questo speciale dunque costruite oggi il vostro futuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti